Il team di futbol veterano di Bosnia topo con Roma del complejo deportivo Franz Figueroa. Anche si tratta di colore per i visitanti nel Tottenham con un buon partito e si tratta di un'impannata fino alla finale del partito. Nell'ultimo dieci minuti Roma tratta di due occasioni per la vittoria di 2 per 1. La intenzione sta con noi che ampli e amistà e è un lazzo internazionale con la etica che diventa. L'ultimo esportivo e noi ci abbiamo una festa con noi. E' anche più importante. In75 Bostos ? In75 Figueroa. In75 Bostos Io amo l'arubo e l'hospitalità, questo è il mio 22enne anno di Aruba e abbiamo avuto un momento davvero fantastico qui e gli Arubans sono sempre molto grafici e un grande, grande hosti, è una meravigliosa isla che hai. Come ho avuto il gioco? Beh, ho avuto due chances e ho perduto i due, cosa posso dire, è stato un buon gioco, abbiamo lavorato, ma credo che abbiamo bisogno di un pari di gioco per aiutare, è un po' caldo per noi, è un po' caldo per noi. Ma hai avuto il gioco? È stato fantastico, è stato un momento fantastico, grazie. Ho avuto un'unità tra la generazione grande e la generazione attuale, ma oggi ho avuto una cosa positiva, ho pensato che deve essere in bar da cotta. Il Clubhouse RCA ha avuto un gioco completo per presenziare il Clásico, qui è la maggioranza di fanatici, ho avuto con il Barcellona, però nel finale, il Tour ha discutito deportivamente il gioco, il gioco a quella che ha avuto l'arubo. Sì. Clásico, con il mio coro, il río, il río, il río, il freddo. Vero positivo, un buon ambiente di RCA, un bianco? Sì, a trove, RCA, great, a todos una donna, Barrios fanatico, il luogo full full, buon ambiente e buona vaga, è tremendo. E possiamo fare un accordo con KFC? Sì, possiamo fare un accordo con Kentucky, un buon rapporto, un'unità patrocina, un'unità patrocina, un'unità patrocina, un'unità equipa di damas, e l'equipo di Divisione Nord sta lanciando un programma nuovo con una salata ma comparte di dirigire il mondo deportivo e arcello che sono molto mai treccato e dono un buon exposure e assina come sa, vai pa' il titolo e assina canteo che stiamo e poi cambia con noi è tricolore, non di solito che conta con otro patronizzatore Ronnie?